Il servizio di diabetologia dell'ospedale di Città di Castello si arricchisce di nuovi strumenti grazie all'associazione Diabetici Il Cammino. Gli strumenti donati per un valore di oltre 5.000 euro sono un glicoscreen per la determinazione dell'emoglobina glicosilata da sangue capillare, completo di una fornitura di 100 test consumabili e 64 sensori, oltre a 11 lettori per il monitoraggio flash del glucosio, un sistema di monitoraggio innovativo riservato a situazioni specifiche che consente di acquisire una stima del dato glicemico con una semplice scansione, evitando la puntura capillare del polpastrello. Ciascun sensore viene applicato al braccio del paziente per circa 15 giorni e permette la rilevazione continua della glicemia configurando una sorta di oltre glicemico. L'associazione Il Cammino, che nel 2015 aveva donato anche un ossimetro per l'ambulatorio del piede diabetico, è già all'opera per raccogliere fondi per l'imminente acquisto di due schermi per le sale d'attesa del servizio e un pc da tavolo. Il servizio di diabetologia di Città di Castello ha in carico circa 4.800 pazienti. Si tratta in larga parte di pazienti affetti da diabete mellito non insulino dipendente, una quota nettamente inferiore di giovani affetti da diabete mellito insulino dipendente e donne con diabete mellito gestazionale. Il servizio operativo tutte le mattine, da lunedì al sabato, si avvale di due medici e tre infermieri a tempo pieno, una dietista e un podologo. Dopo la prima visita effettuata con prenotazione a CUP tramite richiesta del medico di famiglia, le visite di controllo vengono disposte direttamente dal servizio in base al piano di cura del singolo paziente. Le donazioni sono state presentate ieri alla presenza del direttore generale della USL Umbria 1, Andrea Casciari, di Modesto Urbani ed Enrica Bey, presidente e vicepresidente dell'associazione Il Cammino e del responsabile del servizio diabetologia della USL Umbria 1, Roberto Norgiolini.